E' una storia che ha per luogo, Parigi nell'anno del Signore, 1482, storia d'amore e di passione. E noi artisti senza noi, dalla scultura e della rima, noi faremo rivivere da oggi alla fine. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, scatua musicale così, e tutto sale su verso le sede. E su mura vedrete, la scrittura e l'architettura. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, scatua musicale così, e tutto sale su verso le sede. E su mura e vetrate, la scrittura e l'architettura. Qui questo tempo delle cattedrali, la pietra si fa, scatua musicale così, e tutto sale su verso le sede. E su mura e vetrate, la scrittura e l'architettura. Mi crolla il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, scatua musicale così, e tutto sale su verso le sede. E su mura e vetrate, la pietra si fa, scatua musicale così, e tutto sale su verso le sede. Grazie. Grazie.